Quella del 2023 sarà certamente un'estate da ricordare per la Movida Brindisina e purtroppo non in termini positivi. Il contenzioso aperto tra gestori locali, residenti e amministrazione comunale sui contenuti dell'ordinanza ha prodotto settimane di indecisione e anche la necessità di chiudere i battenti delle attività della Movida a mezzanotte. Il tutto a eccezione di alcune deroghe concesse in extremis solo da alcuni locali che ne hanno fatto richiesta. Adesso però si è alle prese con un altro problema, visto che i volontari dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato da giorni hanno abbandonato le proprie postazioni e gli ingressi della zona a traffico limitato del centro cittadino e quindi si circola liberamente con i conseguenti ingorghi nel traffico. Un fatto grave che ha danneggiato non poco le attività di ristorazione costrette a lavorare con le auto che scorrono a poca distanza. Il motivo reale del passo indietro non è noto, anche se la presenza dei soliti bulli che vogliono trasgredire le regole potrebbe aver creato disagio a uomini e d'orne impiegate ai varchi. Il tutto anche in considerazione del fatto che non sempre è stato possibile assicurare la presenza di uomini della polizia locale o delle forze dell'ordine. Adesso l'amministrazione comunale sta correndo ai ripari stipulando una nuova convenzione, questa volta con l'Unione Italiana Cecchi. Ma cambierà poco se non si garantiranno condizioni di sicurezza ai volontari che sono già chiamati a sobbarcarsi ore e ore risoste in piedi, fornendo spiegazioni a tutti quelli che non accettano di buon grado il divieto di transito nelle vie del centro interessato e dall'ordinanza del traffico.